Schiaccia amici, guardate, sottilissima, indietro bella, primo morso, molto sottile, mi piace perché è sottile. Bevande sono tutte ancora qua, ora metto tutto nelle borse, metto indietro nel bagagliaio. Non c'è nemmeno tempo per mangiare per bene, tranquillo, rilassarmi, mangiare, fare video, tutto insieme. Una vita molto, molto movimentata mia. Ora andiamo al mare, torno a casa stanca, morta, faccio doccia. Trovo grande benessere quando faccio doccia, proprio doccia dopo tutta la giornata. Grande benessere amici di sera. Inverno mi piace di mattina, molto di mattina alzarmi, prendere caffè con calma, mi piace molto. Ma l'estate mi piace soprattutto di sera. Quando torno dipende, alle 5, alle 6, ci sono pomeriggi che ho un lavoro. Faccio doccia, casa abbastanza fresca ce l'ho e sto a casa è meglio di tutto quando ho fuori 40 gradi. Vi saluto amici, con questo arrivederci. Un espresso, i due bicchieri di acqua. L'acqua è un po' pieno, va bene. Non avete fresca acqua? Con la bocca assurta, perciò lo sapere. È fredda, no, se vuoi ti dà un po' di ghiaccio. Sì, ghiaccio sì. Lei va bene a me? Sì, con ghiaccio più fresco. Amici, siamo qui nel centro, nel centro percorso Marina di Grosseto, mare, qui prima fila, la mare molto vicino. Si passeggia in ombra perché si sta molto molto bene. Oggi caldo, 35 gradi da noi. E siamo centro, amici, lungo mare, che tutti i negozi, Porto è di là. E noi passeggiamo nell'ombra perché oggi è tanto caldo, oggi è proprio caldo caldo. Pasticceria. Volete vedere prezzi? Pizza questa nostra, come si vende al mare? Prezzi è questi. Quattro stagioni, 10 euro. Caprizzucciosa, 10 euro. Questa casa dove stava in affitto mio figlio. Qui macchina del giochi. Andiamo qua, facciamo vedere il balcone. Il balcone dove stava mio figlio in affitto da Svizzera è venuto. Dove questi qua, vedete, c'è anche caldaia. Conosco molto bene questa casa. Dove ho gomani rossi. Dove ci sono, ho gomani rossi. Stata mia, una pittina, lì c'è tavolino. Due sedie sul balcone. E mi fa impressione. Bella, cresciuta, bambina. Bella, bella, proprio, bella, davvero. E qui tutto centro. Mare è di là, vedete? Tutto, colore molto triste queste qua. Tutto 5 euro. Poca gente, perché qui di sera non si passa, non si passa di sera. Perché è pieno, pieno di gente. Ora tutti al mare. Gente al mare e di sera pieno. Questo è un bello negozio. Anche costoso. Una volta che c'è bella tanta bella roba. Andiamo a sperciare le ritrine. Eh, che bello. Mi frattito, 39 euro. Tutto bello. Andiamo a vedere anche di qua. Questo negozio, mi ricordo, è bello, sì. 20 euro per bambini. Costume, tutto che vuoi. Qui c'è un grande scelta e proprio un bel negozio. Qui. Questa di Marco. 55 euro, così qua. C'è quei bambini belli. Che carino questo qua. Un frattito 16 euro per bambini. Che amore. 99 euro, ma bisogna aspettare saldi. Comunque io questo anno niente, perché io ce l'ho tanta, tanta, tanta roba. Tanta roba. Non compro niente, niente, perché devo consumare prima quello che ce l'ho io. E ora vedo che mi bastano 5 magliette e 3 paia di pantaloni e sono a posto. Vieni Matti, ci vado io a prenderlo, se no niente. Tanti scarpe.